PAPÀ Non è morto. Il signor Errigan alle due e mezza del mattino. Ci, ci, ci. Dobbiamo scavare ora. Lo abbiamo sepolto vivo. Troviamo qualcuno e andiamo là. Portiamo un bulldozer, delle pale e tiriamolo fuori. Ma stop, cosa... cosa... che succede? Gli ho messo il telefono nella bara. Perché hai fatto una cosa del genere? So che non dovevo, so che è assurdo, ma l'ho fatto e ora questo. Sì, beh, una spiegazione ci sarà. Qualcuno gli avrà hackerato il telefono. L'avranno clonato per... per... per fare uno scherzo a te, magari. Se è uno scherzo, perché non è qualcosa di divertente? Tipo... Aiuto, sono dentro una bara. Questo è divertente. Perché quelle due hai la mia iniziale tre volte? Non ha senso.